Cominciano a mezzo Ma non è bello Ma cosa bello? Ciao ragazze E' qua il senno Ciao ragazze Ciao ragazzi Eccoci qua con un nuovo video Siamo qua Io e Dario Per fare il video Degli assaggi Mi hanno cambiato il nuovo E ora perdiamo tempo Dark Lasciate un like Se vi piacciono i video con Dario E così faremo tanti video assieme Prima di iniziare vi dico Come faccio sempre il rossetto che indosso Questo qua è Zen Che ragazze vi giuro è una tinta labbra color nude Di cui mi sono innamorata Perché sembra che faccia anche un effetto volumizzante L'adoro Comunque come al solito lo trovate su caritashop.com Dove trovate tutti i miei prodotti preferiti online Adesso possiamo iniziare Vai parla amore Dici la tua Mi devo cambiare il mezzo Ancora Oh mio dio Ti chiami Biodario Ho deciso io Ti chiami Biodario Non dire quella cosa di dopo che vuol dare E basta Ho deciso di fare un nuovo video di assaggi Ma andiamo stretti Amore infatti più là Queste feste ci siamo ingrassati Ci siamo ingrassati Quindi adesso dato che oggi dovremmo stare a dieta Ma non possiamo fare la dieta Perché dobbiamo mangiare gli assaggi Cioè ci dobbiamo sacrificare E praticamente abbiamo fatto anche video Calorie Tutte quelle cose che a voi piacciono Perché vi piace vederci Strafogarci bene E ingrassare E adesso abbiamo qua una bella dustina Piena di dolci E poi stanno in botto Di americani Sono cose buonissime Cose troppo buone americane L'abbiamo comprato Da Velvet Bakery Ad Arco Felice Perché non le trovavamo da nessuna parte E da loro le abbiamo comprate E sono degli snack tutti americani Proprio originali Quindi siamo felicissimi Ti fanno questo amore Con cosa iniziamo Che poi siamo anche il tema Per la Befana Per le Befania Amore questo è il mio Siamo chiusi Prendiamo qualcosa Prendiamo cosa c'è La prima cosa è questa E si chiama Chips Ed è venuto anche Pupi Perché ha sentito l'odore del maggio Amore Pupi là Allora Si chiama Chips Ahoy Ed è un biscotto 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 Quella americana Già non capisco più nulla ragazze No Pupi No Pupi Allora Ragazzi assaggiamo per prima cosa Questi biscottini Oh Che stavano anche per cadere Amore Uno a te E uno a me Sembrano proprio biscotti Quelli cookie Con le gocce di cioccolato Mi giuro Mmm Buono Buono Non è bene Buono Buono Sono molto ragazzi Cosa? Sempre 8 Buonissimo Buono Buono Ho curiosa di provare questi qua A frutta Che sono Fruit Loops Si amore Deve essere dei cereali a frutta Perché infatti sono Marca Kellogg's Comunque non si trovano in Italia Da nessuna parte Non è che stanno al supermercato Li trovate E sono particolari Oh Oddio amore Sono anche colorati No Epici Sono dei cereali tutti colorati Mmm Non sanno quanto di frutta Poi sono buoni Eh Poi sono particolarissimi Guarda Vi giuro che sono buoni da me Cioè mangiati tutti insieme Un mix di frutta Sono un po' fruttati Ti vuole un aroma Tipo un aroma maniglia Arancio Sono molto buoni Amore Questi li dobbiamo buttare nel latte Secondo me sono una guerra Si Mmm Buone Voto Cinque Sei Troppo curiosa di provare questo Oh mio Dio In frattempo c'è Pupi qua che ci guarda Ci vorrebbe mangiare tutto Aspetta che cade qualcosa a terra Questo è il Reese's Che praticamente è una È una Un dolce È un dolce È uno snack tipico americano A base di burro d'arachidi Che lo fanno in diversi formati Questo qua però Io non l'avevo mai provato Perché è tipo una bomba Sia per lo tuo amore Ehm Oltre al caramello A burro d'arachidi Sono anche tutte le palline Si omiglia un po' Allo sneakers Non so Tipo il lion Ah è vero Tipo il lion Fanno vedere come è bello Vedete È tutto ricoperto di palline Oh mio Dio Cioè no vabbè ralla Cioè dovete vedere dentro che bomba è Questa è una bomba lontana Non so se si riesce a vedere dentro com'è Pieno di roba Oddio Mmm Buonissimo Mmm È un po' pesante Ma è molto più buono Perché ha Popo 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 Burro d'arachidi proprio Tantissimo E anche tutti gli arachidi Mmm Vabbè È qualcosa di illegale È qualcosa di illegale È qualcosa di illegale Oh mio Dio Non riesco a smettere il dorato Vuoto? Si Non lo sapevo Mmm Vuoto? Non lo sapevo Mmm Vuoto? Mmm Buono Oddio Mmm Questo qua Parlando sempre di cookie Questi sono gli M&M's cookie No pupi eh No pupi cookie È solo praticamente dei dei biscottini M&M's Vediamo apriamo Ma questo è quello che si deve chiamare Cioè cookie Cookie Prova cookie Ah questi sono carini Sono dei mini cookie piccolini Con dentro gli M&M's Cioè invece delle gocce di cioccolata Ci sono gli M&M's proprio dentro Piccolini Buono buono Mmm Ma cookie si sta impazzendo Mmm Mmm Puoi vedi tu che ne pensi? Buono Però I cookie quelli grandi erano più buoni Non c'è la parola Vuoto? 6 e mezzo 5 e mezzo 5 e mezzo Un po' d'acqua Devi spegnere il fuoco no? Adesso proviamo Questi che sono Wild Berry Scuttles Questi tipo A M&M's Ah ok Quella neri Ma no Ci sono segnate pure tutte le calorie sopra Cioè hanno avuto anche il coraggio di metterci le calorie Si no Mi vedremo eh Oh la cattano vabbè Dammi la manino La manino? Oh sono proprio gli M&M's Sono proprio le palline di M&M's Così mi feriscono Mmm Ma tu calavella Oh mio dio Che delusione Tu schifo Non mi piacciono Ragazzi questo volto Non dico meno uno Sono Cioè Tipo quando lo mangi Pensi che sia lì pieno di cioccolata Invece di M&M's Sono le piene di caravelle gommose Mmm Il sapore è buono Perché alla prima sono tipo Un fruttino Lo schifo Non ho preso Voi mi ha preso qualcosa No Però La consistenza è bruttissima È falamenosa Voto 3 No 1 2 Ragazzi adesso abbiamo questo Che non so proprio cosa sia Questa è la barretta di cioccolata Questa è la cioccolata bianca Dove messero Apriamo le vediamo qualcosa di anche molto famoso Sì ma è la cioccolata Oh mio dio Oh mio dio Fammi questa cioccolata C'è praticamente è tutta ripiena È bianca Però è tutta ripiena di gucci di cioccolato C'è la cioccolata per te E sopra c'è scritto Air cheese Air cheese Air cheese Buon segno Mmm Ma questa è buona Dentro Non sono gucci di cioccolata Mi correggo Ma sono Mmm Dei mini 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 biscottini A palline Alla cacao Buona Il cioccolato è dolcissimo Perché il cioccolato è bianco Quindi a me non piace Buonissimo Vabbè mi piace Voto Per me 4 Troppo dolce Undici Vado veramente amù Cioè ma dai Adesso proviamo questo ragazzi Questo qua Secondo me è troppo buono Anche questo è fatto da Si chiama Risis Ed è fatto dal burro paracchi Come vi ho detto prima Però questo qua è quello classico Che c'ha le tartine Io questo già l'ho provato In un video che feci con Nancy E so che è molto buono Vedete Sono veramente delle tartine Vedi Amore c'è la carta Non la mangiare Ti prego La nostra prima spettatrice Pupi che sta qua Vedete Sono proprio delle mini tartine Mmm E il ginger Proprio buono d'arriaco di puro Senza nient'altro Molto buono Però Quell'altro d'arriaco di puro Che c'è la vuole Tipo lion Questo quanto diamo? Sette Mmm Sono d'accordo Senti al numero giusto Allora Questo qua è troppo divertente Amore Perché queste qua si chiamano Bean Buzzled E sono delle caramelle Jelly beans A forma di fagiolo E ognuna ha un sapore Che praticamente O può essere una cosa buona o cattiva E può essere ad esempio Latte Latte andata a mare Cocco Andata a mare Non so Nuoce di cocco Vabbè Poi dead fish Che cavolo è? Dead fish Dead fish che è? Testa di pesce Madò che schifo Ma comunque delle cose schifo Vai Ah capito La mente che fanno schifo non ti amo Dice non aprirmi Oh no Dove mi fommare la pancia C'è una Eh già lo so che sarà Questa è data male perché è verde È bianca e verde Mettiamola a schifo Sì Sveccia Io prendo questa qua Marrone Cibo per cani O cioccolato Cibo per cani E non la mangiare La mangia L'hai mangiata? Pupi questa è tua Oh mio dio Dove mangiare un'altra? No basta C'era un'altra Arancione Non la mangia Non la sputa Io verde Questa è buona Non capisco cosa Non è buona 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 Grazie non è buona Voto zero Voto zero Adesso questo qua È bianca Allora questo si chiama Nerds Pop Tearsher Non so cosa dica Comunque Tipo bianca Secondo me Ah è tipo una caramella Troppo carino È un insieme di caramelle Comunose Vado amore Poi la cadere a terra Via È una caramella di coperta Vedi Qua si vedi Buono Particolarissimo È super frizzato È super frizzato È frizzato È frizioso Questo Questo è buono Non è buono Frizzi Frizzi Sì si può frizzivarsi Voto Sei carino Cinque Vabbè Per i bambini Inoltre di mano Poi queste cosa sono Queste sono delle caramelle O delle gomme Sì Questo c'è scritto High head white mystery No gomme forse Gomme Vabbè Ma sono stranissime Questo sembra di ghiaccio Tipo Un pezzo di sugna Oh mio vio Non fanno in niente Sbavola stichini C'è una gomma Non mi piace 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 Questo Calamella Quattro Uno Ragazzi Come al solito Quando facciamo il video snack Assaggi d'aria Un po' C'è un po' E ci mangiamo La cosa più buona Qual era questa? La Le cose più buone Questo ragazze È stata la cosa più buona Amore dividiamolo Com'è bello Com'è bello mangiare amore Questo video sta prendendo una brutta vega Un po' Un po' Un po' Questo è che la buona E non fidasseremo più Abbiamo troppe cose insieme Un po' Un po' Un po' Un po' Le mangia Deve diventare 300 kg Tutto Anche oggi abbiamo fatto la dieta Speriamo che questo video vi sia piaciuto Siate felici Mangiate e siate felici Io vi mando un bacio grande Lasciate un like al video E ci vediamo nel prossimo video che sarà Andremo in vacanza Quindi il prossimo video sarà il vlog della nostra vacanza Seguitemi su Instagram se volete le anticipazioni di dove andremo in vacanza E poi qua vedrete il video su YouTube Si Un bacio grande E alla prossima Scusa voi Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ah i miei capelli Oh mio Dio Ciao a tutti